e di conoscere la vita. Credete che il vostro occhio abbracci un vasto orizzonte, forse? In realtà, vedete solo l'interno della botte. Non riuscite a innalzarvi fino all'orlo e vedere il mondo delle cose al di là. E a un tempo, vedere voi stessi. Siete sommessi nella botte di voi stessi. Tabù e regole apparenze sono le dote della botte. Spezzatele e rompete la magia di credere che la botte sia la vita e che voi conosciate la vita. Griffi il bottaio.